Rettrice oggi Sapienza ha accolto un summit importante e strategico dedicato alla salute globale hanno partecipato esperti da tutto il mondo leader della scienza della medicina e della politica beh un evento importante ed è un onore per noi avere l'ospitato in Sapienza la salute la salute al centro con con la ricerca con l'innovazione con la formazione non a caso un Ateneo ospita questo questo grande evento la salute che deve essere concepita come una strategia di investimento e non un costo e credo che la pandemia da Covid-19 debba aver convinto ormai tutti che bisogna investire in salute bisogna investire in ricerca bisogna investire in formazione Come guidare l'agenda di domani per la salute per la tutela della salute di tutti e per tutti? I temi che sono all'ordine del giorno anche nel nel nostro paese sono sicuramente quelli del rafforzamento della medicina territoriale che all'evidenza proprio in questi ultimi due anni ha dimostrato tutti i suoi vulnus tutti i suoi le sue mancanze quindi una riflessione sulla riorganizzazione della medicina di territorio credo che sia un elemento che non è comune solo al nostro paese ma credo sia argomento globale oltre che ovviamente questi giorni questo succederà il dibattito sui vaccini dibattito sulle innovazioni tra cui per esempio quella della telemedicina che è perfettamente diciamo integrata con il le progettualità di medicina territoriale apre gli orizzonti di mettere a confronto in maniera strutturata tanti scienziati che lavorano in paesi diversi e peraltro per la prima volta in italia voglio dire perché nel passato si è sempre svolto a berlino a parigi per cui di fatto mette sicuramente al centro la capacità italiana di fare ricerca di fare rete che è l'unica possibilità che noi abbiamo di fronteggiare queste sfide l'abbiamo fatto nel 2020 con il covid ma ci sono purtroppo altre sfide il vaccino delle scimmie il vaiolo delle scimmie e comunque la grande mobilità oggi il grande affollamento determinano la presa disposizione verso questi fenomeni quindi questi incontri servono a prepararsi l'italia è sicuramente un paese che per quanto riguarda la qualità dei ricercatori è sicuramente all'avanguardia purtroppo non lo è per i finanziamenti e per la numerosità dei ricercatori ecco se ci confrontiamo con paesi con la germania e la francia loro hanno il doppio il triplo dei ricercatori e questa è ancora una cosa che probabilmente la politica italiana non ha capito pienamente grazie a tutti grazie a tutti